20 febbraio 1872 apre i battenti a New York il Metropolitan Museum of Art all'epoca dell'apertura il museo può offrire ai visitatori solo un sarcofago romano e 174 dipinti per la maggior parte di provenienza europea ma il suo patrimonio cresce rapidamente nel corso degli anni oggi il MET ospita più di 2 milioni di opere d'arte suddivise in 19 sezioni